Non dice no, non dice sì, ma semplicemente si astiene per capire. È il Comune di Città Sant'Angelo che ieri ha partecipato all'Assemblea dei Soci di Ambiente S.P.A., durante la quale sono state approvate, con l'89% dei voti, le modifiche richieste al Project Financing presentato da due società del gruppo SNAM per la realizzazione di un ecovalorizzatore, un impianto ecologico avanzato per la produzione di fonti rinnovabili come compost di qualità e biometano ottenuti dal trattamento e dal recupero del residuo organico di provenienza domestica. Il sito individuato si trova appunto nel Comune di Città Sant'Angelo, per questo il Sindaco Matteo Perazzetti chiede la massima concertazione prima di approvare. Al che si chiami ecovalorizzatore o biodigestore, l'impiantistica per il trattamento rifiuti è un processo importante di tutto quello che è l'iter amministrativo della gestione di una comunità. Oggi l'impianto di biodigestione è uno degli impianti più importanti di tutto questo processo perché è la frazione di rifiuto più importante. Il biodigestore, a differenza del termovalorizzatore, non brucia, ma semplicemente utilizza dei processi chimici naturali che comunque si possono ritrovare in natura. produce biogas e produce compost. Questo però ce lo dovranno dire, ecco perché la mia astensione in seno all'Assemblea dei Sindaci e ho chiesto all'ambiente di iniziare ad interloquire con il territorio, interloquire con le associazioni ambientaliste, gli ingegneri ambientali e la stessa società proprio per comprendere meglio quello che è il progetto che si vuole portare nel tessuto ambientale di Città Sant'Angelo. Io sono sindaco di una comunità in primis e poi socio di una società come quella di Ambiente ma la mia primaria funzione è quella di difendere il mio territorio e di difendere la mia comunità. Se le scelte le si fanno, le si fanno di concerto, naturalmente facendo comprendere ai cittadini e a me stesso che sono ignorante in questo ambito quelli che saranno i processi che si andranno a sviluppare sul nostro territorio perché ci sarà mio figlio domani, ci saranno i figli di tantissimi altri miei amici. Poniamo il caso, adesso lo faccio come esempio, che una vostra controinformazione personale stabilisca che quell'impianto, ma ripeto in maniera di esempio, non sia consigliabile farlo sul territorio. Che potere avreste di bloccarlo? L'itero amministrativo non passa mai per il comune di Città Sant'Angelo, per le sedi comunali. Unitero amministrativo sovracomunale, la società ambiente ha comprato dei terreni che sono di proprietà della stessa società. A seguito di questo la società che è proponente del progetto fa sì che questa proposta venga messa al bando e poi successivamente accettata, venga portata in regione. Al via della regione si potranno essere, e qui il comune può entrare in attività, e quindi potrà dire o fare delle osservazioni per vietare oppure non far fare l'impianto sul proprio territorio.